Allora, benvenuti a quest'altro Robi 6, stasera faccio la recensione di un trailer di un film che dovrebbe fare, farà un sacco di ridere, cioè Ted 2, cioè Coccolino 2 La Vendetta, un sacco di sacchettoni, che ci danno delle grandi, no, niente, non ci danno delle slap, non ci danno dei pacconi, non c'è dell'azione, ma c'è della gran cagnara, e secondo me è un po' McFarlane, questo qua che fa Family Guy, Griffin, quindi è un po' politically incorrect, cioè ci sono un po' di parolacce, un po' di infamato, un po' di insulti, un po' di chierato, un po' di fighe, va bene, che questo? Vai grande! Questi pseudo film da bambini, che non sono per bambini, che sono vulgari, e io mi riguardo e faccio un sacco di risate, perché, perché siamo solo bambini dentro? Vai, vai, vai! No, ho sbagliato, era il treno, ho sbagliato, sotto il treno! E' questo, non è questo! E' questo, non è questo, non è buono, devi vedere questo, eccolo qua! E' per le canocche, faccio le canocche, è caldo! Spero felici e contenti, esiste solo nelle favole, essere una nostra, un sacchiotto parlante sta per sposare la sua fidanzata. Vuolta nel topone biondo, che dà della lingua assitolante a un bambolotto, e il flash cordone li spuola! Non c'è, tanto la gente ormai non si scandalizza più per niente. No, vai, viva fuori quel pelo, dappertutto! Io e Camilin avremo un bambino! Vabbè, come giulli! Come giulli, che non c'è la coda! Tu dico, cioè c'è il codino, ma non giulli quel codino! Ah! Come ti avvantaggi, che fai? Che fai con quella mano? Lo faccio per te! Tu non sei smanella, uomo, Mark! Ma ti fai smanellare da Mark! No, vai, ti fai... No, dai, no! Tu dico, cosa nasce? Fichissimo! Erano i figli di qualcuno! Puttana, gli hai tirato lo sperma! No! Pioggia lo sperma, sono i miei! Aspetta, aspetta, scatto una foto e la posto su Facebook! Ma sì! Hashtag Grluneti! Grluneti! Ma cos'è Grluneti? Sato, Dio, capisco niente, sono stuoto! Guarda qui, dice che se vogliamo avere un bambino, devi diventare un essere umano in tribunale! Una bella fregatura! Sbatti, beh! 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 Quanto è tofo questa qui? Non tolto anche la Bruni che c'ha! Chi ha? Con chi è Samuel Jackson? Ma santo Dio, non sai chi è Samuel Jackson! Ma dove vieni? Tu che fai decino, non fai fi? Dio, dagli del limone, sei tolato! Ma come l'avete tradotta questa roba? C'ho un gonfiole! Ma santo Dio, che roba luta! Vuoi essere una persona agli occhi della legge? La cosa importante delle persone... Colino è una beruola! Adesso, facca il finire! Allora, il mio caffè mi vuole costruire un missile! Oh, cosa te la fieri, ciccio maluva! Ma parcheggiagli la bicicletta lì! Parcheggiaglielà! Santo Dio, cico! Oh, io credo solo per il mio figlio, a cinque anni, cattivo, seduto e finisce le crocchette di pesce! Cocchette! Cocchette! Coccolina cocchette! Stai, dai, sclapia! Non gli hai dato una cucinata, non gli dai un pugno, santo Dio! Eh, vai a fare bandi, galleggi! Sono la sciacchiotta, santo Dio! Sarei morbido? Obiezione! Accolta! Non puoi obiettare! Respinta! Sette! Colpevole! Specula! Contenziosa! Palla lui! 15-0! Ma cosa? Appartizza a tenis! Ah, queste cose stupide! Beh, che cosa? 3-2! 3-2! 3-2! Al cinema! A giugno! Al cinema! Siamo quasi a luglio, ma a giugno al cinema! Santo Dio, un caldo qua dentro! C'è, sei! Ah, però, santo Dio! Dattimi un orsacchiotto che mi pulisca con l'orsocchiotto! Santo Dio! 3-2! 3-2! 3-2!